Il Travel Kit Gum 156 è un pratico kit dal design accattivante, pensato per tutti coloro che pur essendo sempre in movimento non smettono di curare la propria igiene orale. Il Travel Kit Gum è una pratica trus da viaggio in plastica trasparente che contiene uno spazzolino richiudibile da viaggio con setole con protezione antibatterica, il filo interdentale spandibile, una confezione di dentifricio Gingidex arricchito con aloe vera che aiuta a proteggere le gengive e previene l'alito cattivo. Combattere la placca e le sue sgradevoli conseguenze è facilissimo, basta seguire poche regole ma efficaci tra cui la prima è lavarsi i denti dopo ogni pasto con cura e attenzione. Nelle occasioni in cui si pranza fuori o in ufficio il Travel Kit Gum 156 è un ottimo aiuto.